abbiamo diversi indicatori che ci fanno vedere come le altcoin potrebbero overperformare bitcoin nel futuro di brevissimo termine ciao a tutti ragazzi vi do il benvenuto in questo nuovissimo video innanzitutto vi auguro un buon lunedì mattina a tutti e in questo video come ho detto anche nell'intro andremo a vedere un indicatore molto interessante che sul weekly ha switchato in verde che significa significa che tutte le volte che in pratica è tornato in positivo ha preannunciato un altcoin season non ti preoccupare perché all'interno di questo video oltre a queste metriche andremo a vedere le ultime news relative al mercato delle cripto lute e soprattutto andremo a vedere come sono state le chiusure weekly per quanto riguarda l'asset bitcoin prima però di andare a vedere tutto nel dettaglio ti chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendo al canale stesso perfetto non perdiamo molto tempo e passiamo con la visuale apici prima di andare a vedere tutto però ragazzi passiamo con i dati di carattere fondamentale che usciranno durante questa settimana andiamo a fare una panoramica essendo lunedì andiamo a vedere appunto tutti i dati che potrebbero impattare almeno dal punto di vista fondamentale oggi è washington birthday praticamente festa nazionale negli stati uniti di conseguenza le borse americane sono chiuse e non abbiamo dati di carattere fondamentale che escono e che potrebbero influire su i mercati in generale appunto però ragazzi a partire dal 21 febbraio ovvero questo mercoledì usciranno le fomc meeting minutes per chi non sapesse sono dei report che vengono emessi dalla federal reserve in relazione alla precedente sessione dell'fomc in pratica vanno a mettere in chiaro e appunto scritto attraverso questi report tutte le decisioni che hanno detto e tutte le discussioni che hanno affrontato all'interno dello scorso fomc attraverso questi fomc meeting minutes attraverso questi report possiamo capire un po' l'andazzo chiamiamolo così per quanto riguarda la federal reserve che ci fa capire un po' le politiche monetarie comunque ragazzi per quanto riguarda i dati di carattere fondamentale importanti saranno distribuiti soprattutto per il 22 febbraio infatti questo giovedì ci saranno i cpi in eurozona che ci fanno un po' capire come si sta comportando l'inflazione in zona europea poi ci saranno l'initial jobless claims dato americano e poi ci saranno vari dati che ci fanno capire come per esempio le existing home sales come si sta comportando il mercato mobiliare in zona statunitense e altri dati in relazione alle borse statunitensi ma passiamo con alcuni dati riportati da eric balciunas per chi non lo sapesse è il senior etf analyst per bloomberg durante l'approvazione e i momenti prima dell'approvazione moltissimi seguivano le sue indicazioni dato che è ritenuto come uno degli analisti nel settore etf più importanti del settore e soprattutto andiamo a vedere come si stanno comportando i 10 etf di bitcoin che nella scorsa settimana hanno fruttato più di 2,3 miliardi di dollari e questo porta un record per quanto riguarda questa tipologia di etf infatti si tratta di un valore più alto di qualsiasi altro etf su un dato di 3400 specificando il fatto che l'ebit che è l'iShare Bitcoin Trust per chi non lo sapesse è l'etf di BlackRock che replica bitcoin era al secondo posto questo significa che ha portato un afflusso netto di circa 5 miliardi però c'è da considerare il fatto che ragazzi Grayscale Bitcoin Trust durante tutto questo lasso di tempo soprattutto nelle prime farsi primordiali ha dampato BTC come se non ci fossero domani di conseguenza come ha dichiarato anche Eric Balciunas questi numeri diventeranno ancora più folli quando ovviamente GBTC ovvero Grayscale Bitcoin Trust finirà o si assesteranno il proprio sanguinamento diciamo così prendiamo in considerazione questo portafoglio di bitcoin che in realtà abbiamo citato più e più volte anche all'interno del canale infatti sapevate benissimo quanto vi è presente nella criptosfera uno delle schede tiene un equivalente in bitcoin di circa 2 miliardi e 300 milioni in BTC ha rincominciato ad accumulare più volte al giorno transazioni da più di 100 bitcoin infatti possiamo vedere che durante il weekend a partire proprio da venerdì scorso tra il 16 e il 17 ha accumulato per esempio il 16 più di 300 bitcoin il 17 ne ha accumulati per 5 volte ciò vuol dire più di 500 bitcoin diciamo che diverse whale stanno seguendo questa tendenza che nonostante il prezzo di bitcoin stia repentinamente salendo ovviamente prendendo in considerazione i vari anche ritracciamenti certe whale non stanno assolutamente smettendo di acquistare l'asset e questo ci fa capire quanto a livello tecnico si aspettano il prezzo di bitcoin salire ulteriormente almeno nel medio lungo termine volevo riportarvi questa metrica molto interessante che prende in considerazione il BTC exchange balance ovvero che è il bilancio di BTC su tutti gli exchange abbiamo toccato il livello minimo a partire proprio da aprile 2018 e come riportato anche da questo profilo twitter e mi trovo abbastanza in accordo con questa tipologia di riflessione un declino dell'exchange balance di bitcoin un incremento nella domanda degli ETF a replica spot proprio su bitcoin l'halving che di conseguenza diminuisce anzi dimezza l'emissione e l'inflazione di bitcoin più la retail FOMO che probabilmente arriverà a prezzi molto più alti infatti abbiamo visto quanto in realtà adesso i retail non sono ancora presenti o meglio molti dati ci dimostrano quanto la FOMO derivante appunto dagli investitori retail dai nuovi investitori retail non è ancora arrivata praticamente questo potrebbe essere una miscela esplosiva per la price action di bitcoin fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi la pensate in questo modo arriviamo al dato che vi avevo già anticipato all'interno dell'intro infatti se noi andiamo a prendere la crypto total market cap escluso bitcoin con un grafico a one week per la prima volta dal 2020 abbiamo switchato in verde questo cosa significa? significa che tutte le volte che questo indicatore passa da una fase completamente negativa dove ci dimostra e ci fa vedere quanto il mercato delle cripto valute soprattutto quello delle altcoin è verso il ribasso o comunque sia sotto perform bitcoin quando abbiamo un'inversione e soprattutto passiamo dalla fase neutra che è la fase grigia alla fase in verde probabilmente potremmo assistere ad una rotazione di capitali sulle altcoin o comunque sia un incremento delle altcoin stesse questo rispetto ovviamente anche a bitcoin è un grafico weekly quindi di conseguenza ragazzi ci vuole tempo per andare a farmare questi dati e soprattutto per presentarsi una domanda del genere però ragazzi vi faccio presente che tutte le volte che è successo è successo già nel 2016 e nel 2017 abbiamo assistito a questo incremento dell'altcoin market cap che ovviamente si è riflesso con delle performance stellari proprio sulle altcoin sulle principali altcoin quindi ragazzi fate moltissima attenzione con questa metrica e questo non vuol dire assolutamente di andare ora a esporsi andare a vendere tutti i bitcoin per andare a esporsi nelle maggiori altcoin non è questo il succo del discorso il succo del discorso è che tutte le volte che abbiamo assistito a questa tipologia di scenario abbiamo visto come conseguenza un incremento esponenziale della total market cap delle altcoin ragazzi vi ricordo che bing x soprattutto per tutti quei trader che vogliono rimanere tutto sommato ad operare senza kyc è uno dei pochi exchange che dà ancora l'opportunità di farlo c'è questa promo che è dedicata a tutte quelle persone che si iscrivono attraverso i link che lascio qui sotto in descrizione comunque sia c'è la possibilità di oltre ottenere un premio fino a 5000 USDT a seconda del deposito a seconda dei trading bonus c'è un ulteriore bonus che va fino a 150 USDT ricordo che bing x non dà la possibilità di operare soltanto all'interno del mercato cripto ma è una piattaforma che oltre a essere l'exchange centralizzato senza kyc con volumi di scambio e con volumi di capitali al proprio interno più ampi che ci siano attualmente nella criptosfera c'è la possibilità di operare anche sui mercati tradizionali infatti c'è la possibilità di operare sui maggiori indici, commodities e ovviamente anche le criptovalute vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione benissimo ragazzi partiamo con il vedere come si sta comportando il mercato cripto come possiamo vedere Crypto Bubbles ci dimostra come le ultime 24 ore questo inizio settimana sia un buon inizio settimana abbiamo infatti quasi tutte le bolle in top 100 che sono verdi ciò vuol dire che ci stanno significare che stanno incrementando le proprie performance in positivo ma andiamo a vedere ciò che ci interessa a noi ovvero Bitcoin ed Ethereum Bitcoin per fortuna nonostante un po' di sobbalzi durante il weekend riesce a mantenere la soglia dei 52 mila dollari e vi avverto già che in questo video andremo a concentrarci su le chiusure ma soprattutto su un grafico weekly comunque infatti Bitcoin riesce a mantenere i 52 mila 139 dollari facendo una performance delle ultime 24 ore dell'1.13% ma come potete vedere negli ultimi sette giorni sono le performance interessanti ovvero l'8.40% Ethereum allo stesso modo guadagna di più rispetto a Bitcoin infatti nelle ultime 24 ore si è svegliato e ha fatto una performance del 3,60% ovviamente nel momento in cui sto registrando assestando il prezzo a 2.892 dollari comunque sia passiamo con la visuale sul weekly di Bitcoin perché voglio andare a contestualizzare con voi la chiusura del weekly di settimana scorsa infatti possiamo vedere che vi dicevo ragazzi attenzione perché se chiudiamo esattamente al di sopra di questo livello ovvero il livello dei 50.880 abbiamo più possibilità almeno a livello statistico di continuare verso il rialzo è vero che siamo estesi da morire perché possiamo vedere che praticamente Bitcoin da partire dall'11 settembre 2023 sta andando soltanto su a parte questa fase della telarità però come potete vedere abbiamo avuto una chiusura al di sopra di qui a meno che questo movimento non è stato per andare a liquidare tutte queste posizioni che si erano create ormai da tempo in queste zone questa settimana ci farà capire a seconda di come chiude se vorrà continuare verso il rialzo o comunque sia andrà ad mangiarsi parte delle performance quindi ragazzi questa settimana ovvero la chiusura dopo la conferma del breakout ovvero della rottura in questo caso sul weekly è importantissima da andare a contestualizzare a livello statistico comunque sia le probabilità come ho detto prima di una continuazione sono più alte rispetto ad un ritracciamento però è ancora tutto da scrivere andiamo a vedere la liquidation ITMA perché sul one week abbiamo liquidato durante il weekend come ho detto prima tutte queste zone di liquidation che si erano create infatti avevamo 51.217 un liquidation leverage all'incirca 467 milioni che lo abbiamo liquidato passando ovviamente con un minimo all'incirca i 50.674 dollari diciamo che questo mini dump che abbiamo assistito ad nel weekend ci è servito per andare a liquidare tutte queste zone però attenzione ragazzi perché adesso si sta generando un'altra zona abbastanza interessante con un liquidation leverage cumulativo di circa 550 milioni in zona 52.956 passiamo con il vedere brevemente prima di andare a contestualizzare Ethereum e Ethereum Bitcoin perché volevo mostrarvi una chart molto interessante come ci fa capire quanto in realtà su un grafico, su un prospetto weekly potremmo vedere Ethereum sovra performare Bitcoin almeno questo a livello tecnico però comunque prima voglio andare a mostrarvi l'aggregated open interest su Bitcoin infatti possiamo vedere che a partire proprio dal 12 febbraio ci siamo stabilizzati sulla quota dei 14 billion infatti diciamo che ancora mi aspetto uno shock per quanto riguarda l'open interest staremo a vedere perché comunque il mercato a leva è molto molto teso diciamo così andiamo a vedere però Ethereum Ethereum anche qui sul weekly ha avuto una chiusura pazzesca infatti questo è quello che vi volevo mostrare la settimana precedente, non l'ultima settimana che abbiamo visto ma la settimana precedente ha confermato una chiusura al di sopra del top precedente ok? ovviamente sto parlando di chiusure e non di spike e questo cosa significa? significa che le probabilità che la candela successiva sia rialzista in questo caso che dato che il breakout è venuto verso il rialzo sono molto maggiori un po' come abbiamo detto per Bitcoin abbiamo avuto una chiusura sopra questo livello anche di un buon punto percentuale infatti diciamo che c'è un 1000 dollari di differenza le probabilità di andare verso l'alto sono più alte però ragazzi ciò che vogliamo vedere è la candela successiva che ci va a definire il trend in questo caso è stata molto positiva perché abbiamo avuto una candela della scorsa settimana del 15% stiamo parlando di cifre enormi staremo a vedere Ethereum effettivamente sul weekly ha ancora spazio almeno a livello di supply and demand diciamo che la prima zona di resistenza la troviamo a 3057 dollari infatti diciamo che tra il livello che ci troviamo oggi fino a questo livello non abbiamo niente almeno a livello storico che ci fa pensare ad una possibile ricorrezione prima di questo livello infatti diciamo che il livello di 3054 dollari oltre a essere i 3000 dollari un livello psicologico possiamo vedere che abbiamo questa zona qui che ci potrebbe fungere come zona di atterraggio andiamo su Ethereum Bitcoin ragazzi sempre sul weekly Ethereum Bitcoin sembra si stia appoggiando nelle ultime settimane a partire proprio dalla settimana del primo gennaio 2024 da un mese e mezzo quasi due su questo livello questa trendline storica questa trendline storica che in pratica possiamo prenderla in considerazione da settembre 2019 ha quasi sempre svolto la funzione di supporto per quanto riguarda questa coppia criptovalutare ovvero Ethereum contro Bitcoin significa che probabilmente se dovessimo assistere ad uno scenario che abbiamo già visto più e più volte nella storia dove rimbalza su questa trendline dinamica e ragazzi non la toccava da dicembre 2020 possiamo vedere che potremmo vedere Ethereum sovra performare Bitcoin almeno per quanto riguarda un prospetto weekly staremo a vedere abbiamo tra l'altro anche una specie di triplo minimo che ci potrebbe far capire come in realtà potremmo benissimo andare a toccare i livelli degli 0.06 praticamente stiamo parlando di una performance positiva di Ethereum rispetto a Bitcoin dell'8,84% anche qui ragazzi staremo a vedere Total 3 voglio prendere in considerazione la Total 3 per chi non sapesse cos'è la Total 3 stiamo parlando della Crypto Total Market Cap escluso Bitcoin ma escluso anche Ethereum ciò vuol dire che prende in considerazione tutte le altcoin tranne i big in pratica possiamo vedere che dopo una ascesa che avevamo visto parecchio tempo fa ovvero ne parlavamo a inizio dicembre dove vi dicevo ragazzi attenzione perché si è creato questo triangolo simmetrico che poi abbiamo sfondato e abbiamo fatto una bella performance performance del 33,42% il fatto è che potremmo non fermarci qui perché se noi andiamo a prendere anche qui supporti o resistenze a livello storico fino ai 637 billion dollar non abbiamo supporti proprio che ci fanno capire come potrebbe fermarsi su livelli di importanza storica l'ascesa della Total 3 non abbiamo livelli di forte importanza che potrebbero frenare la salita ovviamente tutto un po' da prendere con le pinze e staremo a vedere un po' come si evolve la situazione quindi ricapitolando attenzione alla prossima settimana ovvero questa settimana, la chiusura di questa settimana perché ci fa capire come si potrebbe definire il trend di medio termine sia per Bitcoin che in questo caso anche per Ethereum diciamo che Ethereum è messo leggermente meglio almeno a livello grafico perfetto ragazzi vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per andare a iscrivervi a BingEx eccetera eccetera fammi sapere se anche secondo te potrebbe avvenire nei prossimi mesi una rotazione dei fondi o comunque sia un incremento delle altcoin se non l'avessi ancora fatto chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso per gli iscritti invece noi ci vediamo nel prossimo video ciao